buongiorno buongiorno sregione come va si sregione quanta gente sragiona secondo me diciamo che quelle prima della festa san girardi c'erano quelle che facevano le previsioni e c'erano quelle che già critichevano senza manca sapere mo dopo la festa per 15 giorni ma sento tutti questi qua che scrivono sacra cazzate questo non è andato questo è andato questa deve hanno fatto le pagelle allora io visto che lo fanno e tutto lo fa pur Ziovit allora pagella è andato tutto bene della festa dei portatori del santo il pranzo dei portatori del santo san girardi è stato contento diciamo tutto bene io un appunto Ziovit lo deve fare ma i portatori già lo sanno perché quella sera che Ziovit è andata là che l'hanno fatto spugliare per farlo bevere che Ziovit non beve Ziovit è astemio io quando astemio astemio tutti i centri paravigiani allora quando è stato diciamo che devo dire che parecchie giovani che non diciamo che non usavano più la droga diciamo dopo le due canzoni di Felice Capuzzella diciamo sono rientrati nel tunnel allora se facciamo tanto per far uscire dal tunnel perché la mafattras vabbè e ci sono errori ma uno non può sapere però diciamo che fin anche san girardi se ne aiuta da un tempietto aiuta san francesco insieme se ne sono aiuta a sentire in difficoltà dai mitici a costringerà diciamo che zompavano un po' richiù diciamo va bene sono cose che poi non ricapitano allora vuol dire che l'anno prossimo uno memori delle degli errori che uno fa e allora cerca di migliorare però è tutto si sa che quando uno fa una cosa è soggetto a elogi e a critiche e quindi uno che fa si perfezionano le critiche servono per crescere e questo è di Ziovit poi invece le critiche che sanno solo per fare le critiche poi fa pigliare aria alla bocca e tra i muscoli quelle non servono a niente allora non tenete conto di quelle che parlano sempre solamente ma senza mettere soluzioni e allora Ziovitò parla e magari critica e la soluzione può dire cerchiamo di fare meglio tutto quanto e basta tutto qua non c'è niente da prendersela male e non nessuno se la prende a male ma tutta la festa è andata bene la festa la vita del prefetto e tutto quanto che dicevano queste po' sporchene cose è chiaro che se c'è gente ha fatto la foto i cestini prenderi c'erano ma se i cestini sono pieni la gente doveva rimettere allora la torniamo alla collaborazione di tutto quanto no e allora in questo caso anche il comune deve fare la sua parte e quindi prevedere che ci sono migliaia di persone in queste sere di festa e quindi mettere più cestini magari anche i soli bidoni quelli che si muovono e poi e poi quelli dell'acta hanno lavorato hanno lavorato bene perché hanno ripulito tutto hanno ripulito subito la villa del prefetto due ore dopo la villa si poteva si poteva camminare e tanto che il prefetto ha pensato molto a chi romponato i vent'anni allora detto questo io direi che quest'anno è andato tutto bene poi c'è sempre qualche cosa qualcuno che vuole strafà ecco però è andato tutto bene e che vi devo dire c'è gente che stavo pensando no che io oggi è andato a trovare quell'amico di ieri che non c'è più no ma sapete che non suolva a fare tutto il corso sì sì mi è piaciuto mi è piaciuto e don Vitti e che ha detto beh era uno di noi che frequentava la chiesa e per questo l'abbiamo voluto qua però ho manuto fai conto degli anni beh è stata una bella cosa e quindi noi fretta fretta abbiamo fissato i numerini e abbiamo unuso pannato che dovevamo salutare la famiglia E beh, perché se quelle sancionate di scherzo, 5 e mezzo, 5 e 35, come ero vinto, tramava la terra. Ma che cazzo vi è successo? La cosa bella è che la gente non pensa che oggi ci sei e domani potreste non esserci. Allora, se io non pensassi più a queste cose, vivrebbe meglio, più sereno. Beh, allora, a loro vostro, Cagliardo e Tosta, in casa vostra, parto di Zio Vito, e ci sentiamo domani. Ciao a tutti quanti. Ciao. Ciao.